Approvato il testo della prima storica consultazione popolare del comune di Baveno, non ci sarà però la domanda inerente la casa dell'anziano, è sempre più remota infatti la possibilità di realizzare la nuova struttura presso il parco di Villa Mussi ad Oltrefiume. La trattativa insieme al privato che ha manifestato il proprio interesse prosegue ma l'offerta resta lontana dalla domanda, ha precisato il sindaco Maria Rosa Gnocchi a margine dell'ultimo consiglio comunale. Il quesito precedentemente inserito è stato così tolto visto che la situazione è in divenire, sono comunque rimaste le altre parti che compongono il questionario popolare anonimo, le più interessanti sono quelle inerenti, le sensazioni dei residenti in merito alla loro città e le aspettative che ripongono su Baveno. Non mancherà inoltre la domanda su come utilizzare in futuro le ex scuole elementari, oggi temporaneamente occupate dall'indirizzo turismo dell'istituto alberghiero Erminio Maggia. Nessuno si è mai posto il problema quindi è giusto capire che cosa vorrebbero i nostri cittadini, ha detto l'assessore Emanuele Vitale che si è occupato della stesura del questionario. Ci spiace leggere critiche da parte dell'amministrazione di Stresa sulla questione alberghiero, noi ribadiamo la nostra disponibilità nei confronti della scuola e della provincia come abbiamo sempre fatto da settembre ad oggi. La consultazione verrà spedita via posta nei prossimi mesi, il documento sarà crittografato e potrà essere compilato o al computer oppure a mano. In quest'ultimo caso dovrà essere imbucato in appositi spazi adibiti in città. Si tratta di un altro punto del nostro programma elettorale che abbiamo rispettato. Ha dichiarato Gnocchi, il nostro obiettivo è coinvolgere sempre di più la cittadinanza. Essendo assente tutta la minoranza il sondaggio è stato votato all'unanimità.